Siamo qui oggi per darci un taglio, per dare un taglio a queste reti, per dire che ci siamo preoccupati di sentire che la risposta a tutti i problemi della città è in controllo sociale, alla sicurezza, al problema della sicurezza che stanno creando attiva di solleranza e paura, continuano a rispondere con controllo nelle telecamere della recensione dei parchi e noi vogliamo dire oggi che basta, questa non è la sicurezza che vogliamo, la sicurezza è quello che vogliamo, quello che è un futuro, una casa, un reddito, un lavoro Noi le reti ve le tagliamo Noi le reti ve le tagliamo Basta col controllo sociale, con chi ci vuole imbrigliare, tra le reti e le telecamere Basta col controllo dei rapporti sociali dalle persone, vogliamo la sicurezza vera, quella di una casa, quella di un futuro, quella di una scuola libera per tutti e lanciamo un messaggio forte alla ditta e al comune che hanno voluto costruire questa rete, noi le reti le tagliamo, No, noi non ci siamo, torneremo, torneremo in città ancora una volta a farti sentire, a dire no al controllo, basta con questo clima di paura creato dai media e dalle istituzioni che si spegnano i soldi per risolvere i problemi della città come l'ambiente, i servizi, i trasporti ce la vivibilità della città Noi le reti ve le tagliamo Noi le reti ve le tagliamo Noi le reti ve le tagliamo La carbonella è il pesce, ti sguardo in galera che sei d'anima bella, diventi un corpo inanimato in scella. Ricordo Aldo Pianzino, era un falegname nel suo casolare a chi faceva del male. Come lui qui c'è gente che non è che t'accompagni, questa è gente che io voglio come compagni. Con la forza dentro contro ogni potere, qualcosa che nemmeno immaginavo di avere. E quando ci incontriamo non c'è segno di resa, in strada ogni volta si rinnova l'intesa. E quando ci incontriamo non c'è segno di resa, in strada ogni volta si rinnova l'intesa. E ci sono chiese, macerie, moschee, questure, lì frontiere, prezzi inaccessibili e freddure, lì paludi, minacce, cecchini coi fucili, documenti, file, notturne e clandestini. Qui incontri, lotte, passi sincronizzati, colori, capanelli non autorizzati, uccelli, migratori, re di informazioni, piazze di tutti, laiche, pazze di passioni. Si entra e si esce di qua, si entra e si esce, da queste mappe della città, si entra e si esce, cerca di stare in gruppo, la tranquillità è importante ma la libertà è tutto.